Nella recente comunicazione ai suoi seguaci, Barbara D'Urso ha condiviso apertamente la sua attuale situazione di salute. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha deciso di affrontare con trasparenza l'imprevisto che le è capitato, rassicurando al contempo il suo affezionato pubblico. Nonostante le difficoltà, la determinata D'Urso sta affrontando la situazione con il suo consueto ottimismo. Come la stragrande maggioranza degli italiani, Barbara D'Urso ha contratto l'influenza stagionale. Durante il tour del suo spettacolo teatrale, Taxi a due piazze, la conduttrice napoletana si è ritrovata a Gallarate a combattere contro una febbre elevata. Condividendo immagini del suo letto d'albergo circondato da medicinali, D'Urso ha raccontato la sua esperienza con l'influenza. Nonostante la notte difficile e la febbre persistente, Barbara D'Urso ha preso numerosi integratori oltre ai farmaci tradizionali. Con la sua consueta energia, la mattina successiva era pronta a salire sul palco per l'esibizione serale. La sua determinazione a non deludere il pubblico è evidente. Anche se la febbre dovesse salire, stasera si torna in scena a Gallarate perché mai fermarsi.